Abbiamo come protagonista di questa vicenda un ingegnere ucraino che era giunto nel nostro territorio per mettere a frutto la propria competenza. In che modo? Sì, per la precisione sono state tratte in arresto due persone, entrambe di nazionalità ucraina. L'ingegnere è stato ritenuto responsabile dei dati di furto aggravato, di ricettazione e di possesso di documenti falsi ed è il soggetto che ha avuto il ruolo sicuramente principale nella vicenda. Mentre il complice è stato tratto in arresto per il riciclaggio, in quanto è stato trovato a bordo di un veicolo rubato al quale erano state apposte delle targhe false e dei documenti di circolazione falsi ed era stato ripunzionato il telaio. Questi soggetti erano molto organizzati, infatti tutti i veicoli asportati venivano apposte delle targhe false, ripeto, e i documenti erano perfettamente regolari, quindi l'organizzazione era pronta per esportare questi veicoli, si presume in vari paesi dell'Unione Europea e soprattutto dell'est Europa, tra cui Polonia ed Ucraina. In che modo avveniva il furto? Il furto avveniva tramite della strumentazione tecnica molto sofisticata, che permetteva a questi soggetti di recuperare e decodificare il numero delle chiavi e quindi produrre da chiavi vergine delle chiavi perfettamente funzionanti per aprire veicoli.